Siamo con l'assessore Giovanna Ceparello, siamo nuovamente qui a Limoncino. Questa vicenda della discarica sembrava terminata, ora invece con il consertare si riapre tutta la situazione. Cosa ne pensate voi come comune di Livorno e cosa intendete fare? Ne pensiamo male perché siamo molto preoccupati in quanto gli studi di Arpat denunciavano dei seri problemi sul fondo della discarica e questi seri problemi purtroppo secondo noi ci sono, quindi siamo preoccupati e siamo così preoccupati da voler fare un ricorso anche se noi non siamo la parte coinvolta perché il ricorso della Librea era contro Regione e Arpat ma noi come comune vogliamo comunque fare ricorso perché abbiamo un interesse in questo come comunità cittadina proprio perché la situazione è secondo noi molto molto critica. Che tipologia di rifiuti dovrebbero venire qui ora nella discarica? Certo, come sappiamo sono molti, sono rifiuti non pericolosi ma questo non significa che non possono avere impatti negativi che non possono avere appunto sulla salute pubblica specialmente perché il fondo della discarica, come dicevo prima ci sono dei dubbi sulla permeabilità di questo fondo.